Il successo in finale della formazione turca della Skip Ildis ha archiviato la prima edizione della Cortina Carling Cup, torneo femminile, inserito nel circuito World Carling Tour e organizzato la Fondazione Cortina e Associazione Carling Cortina. Era tra l'altro un ultimo atto a sorpresa allo Stadio Olimpico, contro le Svizzere del team Svalle raggiunte dunque seconde. A completare il podio, le norvegesi del team Rörvik, terze e che si sono imposte nella finale di consolazione contro le forti coreane del team Jin. Difficile invece la tre giorni vissuta dal team Constantini, ridotta ai minimi termini causa l'influenza di Giulia Zardini, Lacedelli e Marta Lo Deserto ed estromesso ai quarti. Per la campionessa olimpica di doppio misto Stefania Constantini e le compagne non mancherà l'occasione di rifarsi, specie nel mondiale di marzo in Canada. Con un po' di presunzione mi permetto di dare un giudizio positivo a questa manifestazione che è tornata di gran livello a Cortina dopo 14 anni. Ricordo sempre che il curling a Cortina è una grandissima tradizione, è nato negli anni 30, il curling in Italia è nato qui a Cortina, per cui ci sono persone, atlete, specialisti, appassionati che rendono, diciamo tutto, più facile. Per cui se vogliamo considerare questa tre giorni un test per le Olimpiadi del 2026, mi permetto di dire che a mio parere il test è brillantemente superato. Nel frattempo il sindaco cortinese Gianluca Lorenzi annuncia l'avvio dei cantieri di ristrutturazione dello stadio olimpico, il quale ai giochi del 2026 sarà la casa proprio del curling. Nella primavera, marzo, aprile, anche qui cominceranno i lavori della ristrutturazione dell'Olimpico che vedranno dei lavori abbastanza impegnativi dal punto di vista della friabilità, soprattutto diciamo dei disabili ma anche la riqualificazione interna dello stadio e quindi anche qui una nuova faccia nuova a un olimpico che meritava di essere, diciamo di avere un restyling e anche dal punto di vista quindi non solo del curling ma anche dell'occhi, tutte quelle che sono le discipline della FISG che potranno avere una struttura ad altissimo livello.